Ho iniziato a parlare dei capelli afro nel 2013. Avevo un blog che si chiamava Miriam Box Bread. All'inizio era soltanto una pagina Facebook dove condividevo appunto le foto e video delle acconciature che realizzavo sui miei clienti. Mi sono avvicinata al mondo dei capelli afro proprio perché anch'io volevo rispondere a un bisogno. C'era un problema. La maggior parte delle ragazze nere come me sanno di questo problema, non tutte ma la maggior parte sì. Avevo i capelli chimicamente stirati e volevo imparare a gestirli senza stirarli. Ecco, ho cominciato quindi a fare le mie ricerche su internet ma sfortunatamente in Italia non c'erano fonti sull'argomento. Proprio zero. Ero delusa ma ho continuato la mia strada cercando dei contenuti in inglese e in francese. Piano piano ho cominciato a imparare tante cose che condividevo sul blog. Condividevo delle esperienze personali. Dico personali perché al di là di imparare le cose online io sperimentavo sui miei capelli. Molte ragazze pensano che abbiamo dei capelli simili e quindi le cure sono le stesse e invece no. Ogni capello ha le proprie caratteristiche. Quindi io Miriam condividevo le mie esperienze per aiutare chi ne aveva bisogno. Ma non è detto che quello che io applico sui miei capelli è questo che dovete applicare voi sui vostri capelli. Dovete fare voi le vostre esperienze. Va bene questa è una parentesi. E quindi questo blog è andato avanti per tanti anni. Ho fatto anche delle consulenze. La maggior parte delle consulenze all'epoca erano gratis perché ho visto che le persone avevano tanti dubbi e il mio obiettivo era proprio di aiutarli. Dopodiché ho deciso di unire le mie due passioni. Quella da conciatore con quella della cura dei capelli afro e ricci e quindi è nato Miriam Efro. Dico afro e ricci perché ho avuto la possibilità di collaborare con un salone che si occupa della cura dei capelli afro e ricci. Mi hanno dato la possibilità di imparare tante altre cose sui capelli ricci. Quando mi ha dato la possibilità di unire anche questa tipologia di capelli nelle mie consulenze. Miriam Efro ha l'obiettivo di fornire dei servizi che io all'epoca non trovavo in Italia. Di quale servizio si tratta? Per esempio non c'erano i prodotti per capelli afro e ricci, gli strumenti, niente. Bisognava trovare tutto online all'estero e comprare, aspettare non lo so 10-20 giorni per farli arrivare. Ma per fortuna oggi in Italia ci sono tanti brand nuovi e quindi abbiamo la possibilità di comprare tutto qui in Italia. Dunque i servizi che fornisco io sono in primis le consulenze e nel sito troverete tre pacchetti, la state, la medium e la premium. Sono tre pacchetti scelti appositamente per aiutarvi nella gestione dei vostri capelli afro e ricci. L'ultimo pacchetto è veramente il pacchetto bomba perché vi dà la possibilità di stare più a contatto con me, vi dà la possibilità di imparare tante cose. Facciamo dei video tutorial sia sulle acconciature basiche e anche per le acconciature con gli aggiunti. Ma se volete imparare di più con le acconciature con gli aggiunti è meglio iscriversi agli atelier che farò prossimamente. Al di là di questo faccio ancora le prestazioni sulle acconciature per esempio boss bread, twist, full locks, cornrow eccetera. A breve ci sarà anche il negozio aperto dove potete comprare direttamente i vostri prodotti e gli strumenti per la cura dei vostri capelli. Alla fine non ho nemmeno finito il mio trucco. È difficile parlare e truccarsi contemporaneamente. E prima di chiudere vi parlerò anche di questo diario. Questo è un diario pianificatore che ho realizzato per aiutarvi nella gestione dei vostri capelli. È disponibile su Amazon se siete interessati. Alcune persone l'hanno già acquistato. Ecco è un diario pianificatore che è diviso per giorni, mesi, settimane e all'interno potete trovare dove scrivere la tipologia dei vostri capelli, la porosità. Avete la possibilità di mettere i vostri prodotti preferiti che usate nel Wash Day. Avete la possibilità di dare le stelle ai prodotti e così via. Dunque penso che è tutto. È un video breve di presentazione. Spero che vi è piaciuto e vi permetterà di conoscere chi è dietro questo piccolo brand. Per finire metto anche il mio rossetto della Fenty Beauty. Adoro questo rossetto. Dunque è tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Non so se ho detto tutto quello che dovevo dire ma non importa. Se avete delle domande potete scrivermi tutto qua nei commenti. Risponderò con piacere. Il mio sito è www.miriamwefro.com Andate a visitare il sito. Iscrivetevi alla newsletter per poter stare sempre in contatto con me e usufruire anche dei 10% al primo acquisto. Vi mando un bacione grande e alla prossima. Ciao! Ciao! E qualcuno ha dimenticato anche il maschera. Il maschera. Il maschera. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Questo è il maschera della Wycon. Questo qui. Non so come si chiama tutti i trucchi ma ne so molto. Vado così. A cavolo. Dunque questo è il look finale. Spero che vi piace. Il fuo un fanto me granché? Ho, 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 ho. Gesù? Ho, ho. Tutte le miele? Grazie a tutti